È stato molto bello e io mi sono letteralmente emozionata e soprattutto durante la photocall per le persone che mi hanno chiamato per chiedere un autografo o una frase. Io ho scritto qualcosa di vero ad ogni firma lasciata su un foglio una frase che potesse essere d'aiuto magari a quel ragazzo o quella ragazza che le avevano richiesti, perché non sono mai banale nell'approccio con le persone. E poi durante il nostro invece, chiamiamolo, incontro con i giovani è stato molto bello perché i ragazzi si fanno avanti con le domande reali di quello che realmente pensano, non ci sono filtri e quindi è molto più interessante che parlare semplicemente delle proprie esperienze e venire stimolati dalle domande dei ragazzi. E devo dire che il Presidente ha inventato una formula straordinaria. Io sono onorata e orgogliosa perché sono nata a Salerno e ho fatto tutto un giro del mondo e oggi trovarmi qui poi soprattutto dopo così tanti anni di carriera sono molto felice.